Buonasera a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Profste, oggi è venerdì 14 giugno 2013, sono da poco passate le 22.30 e da poco sono chiusi i mercati, che hanno concluso un'altra settimana finanziaria assolutamente importante e ricca di accadimenti. Prima però volevo ringraziare ognuno di voi, lo volevo farlo anche a voce dopo averlo fatto sul sito perché questa settimana, per la seconda settimana consecutiva, abbiamo insieme stabilito un record, cioè superato le 800 visualizzazioni accumulate tra YouTube e Video Live di questa videoanalisi, quella che state guardando in questo momento. Quindi è di nuovo grazie, è una cosa che rende prezioso ciò che faccio e importante l'attività didattica, mi dà davvero tanta tanta forza per andare avanti, sapete che l'impegno è notevole, è una cosa che quotidianamente porto avanti ormai da sette anni e quindi blog, Facebook, video, didattica, corsi e quant'altro, l'impegno è tantissimo ma ripeto ognuno di voi rende davvero importante ciò che faccio e per questo volevo davvero ringraziarvi. A questo proposito ricordo che alcuni di voi settimana prossima, ormai mancano 10 giorni, parteciperanno al corso trading sul metodo ProfStay che si terrà il 24 e 25, tutte le informazioni le trovate sul sito, dico alcuni di voi perché? Perché si tratta di un corso avanzato che richiede una preparazione di base sul trading in generale sicuramente ma anche sulle basi del metodo ProfStay e qualcosina anche del market profile, è importante perché pretendo che chi partecipa diciamo possa e riesca a trarre dal corso e dai contenuti dello stesso tutto il meglio e il massimo possibile. Per farlo bisogna avere un pochino di base, per questo chi volesse partecipare e chi vuole partecipare mi scrive un'email in modo molto semplice, confidenziale, amichevole, parliamo insieme dell'opportunità in base alla vostra esperienza di partecipare o meno al corso e senza angoscia perché poi il corso chiaramente si ripeterà, valutiamo appunto se è opportuno partecipare a questa edizione di giugno che però si sta in qualche modo rivelando effettivamente un'edizione storica più che altro per le condizioni di mercato che sono davvero uniche. Il corso dopo anni di pausa è ripreso a giugno dell'anno scorso, compie un anno quest'anno, proprio perché vedevo all'orizzonte non tanto rialzi alla fine della crisi perché purtroppo la crisi è ancora presente ma sicuramente delle condizioni di mercato che ho definito e continuo a definire ad alta leggebilità in particolare per chi utilizza il metodo PROSTE e lo conosce a fondo perché mai come adesso si è rivelato altamente leggibile, molto regolare quello che accade sui mercati anche se durante la crisi dal 2007, la crisi non è finita ma comunque fino all'anno scorso i mercati hanno mostrato oltre che grosse discese anche molta lateralità e più che la leggibilità il problema era quello delle opportunità. Le opportunità invece sono tornate, saper leggere i mercati come dico al tempo presente e giudicare in maniera oggettiva ciò che accade è assolutamente vitale ed importante, chi segue il metodo PROSTE può farlo. Il metodo PROSTE che, lo ricordo, si può acquisire anche e semplicemente seguendo tutto il materiale gratuito presente sul sito, non è assolutamente obbligatorio partecipare al corso, il sito è preziosa, fonte di tantissimo materiale di tutti i tipi, partite se non mi conoscete e non conoscete bene il metodo PROSTE dalla barra laterale destra dove abbiamo, oltre che le avvertenze, un pochino di guida per chi inizia, sicuramente il libro, tanti video didattici, insomma gli approfondimenti necessari per poter entrare un pochino ad approfondire appunto quello che è la didattica e il metodo PROSTE. Detto questo, vediamo quello che è accaduto questa settimana. Sono successe tante cose ma, e di nuovo, nulla ha stupito più di tanto. Quelli che vedete sono i grafici giornalieri in particolare dell'Eurostoxx, del DAX, del Nasdaq, dell'S&P 500, quindi mercato europeo e mercato americano in primo piano. Lasciate il FIB sempre un pochino in secondo piano perché le peculiarità del caso Italia rendono il Fuzzimib un indice da seguire sicuramente ma che continua a fare un po' storia a sé stante e quindi è da prendere sempre un po' con le pinze. Mentre è molto importante seguire il Bund perché comunque da tenere in secondo piano rispetto agli azionari ma certamente le correlazioni inverse che spesso si verificano rispetto al Bund, e ne parleremo fra un attimo ancora in modo approfondito, sono sicuramente importanti. Quelli che seguo, tra l'altro, approfondisco velocemente, sono sempre e solo i contratti future ultima scadenza dei mercati CME ed Eurex. Quindi vi prego, tutte le analisi, gli studi, la teoria e la pratica sono basati su osservazioni, day future, ultima scadenza. se volete dovete seguire la stessa cosa. Poi eventualmente potete fare trading su quello che desiderate, azioni, non azioni, quello che volete, ma partite sempre dai future e osservate sempre e soltanto i future. Ultima scadenza, mercati regolamentati Eurex e CME. Poi ripeto, se volete fare trading su qualsiasi altra cosa non c'è problema, ma le osservazioni vanno fatte esclusivamente sui future. Quindi, che cos'è accaduto questa settimana? Allora, in maniera molto semplice c'è stato il proseguimento di quel tubitop che già dal 28 maggio scorso abbiamo subito il primo giorno identificato e poi seguito, sono ormai più di due settimane che si sta sviluppando in maniera assolutamente precisa. È proseguito a ribasso, il PV va tenuto sempre presente perché ricordate è stato prima penetrato, poi testato dal test dell'area del PV che qui sull'Eurostox non è stato neanche raggiunto, ma sul DAX è stato prima penetrato e poi ripenetrato a ribasso e quindi in totale questa divergenza è quella che ha poi dato luogo alla discesa cui abbiamo assistito questa settimana. Discesa che ha poi portato alla chiusura del famoso gap del 29 aprile e che da subito di nuovo avevamo segnalato come elemento di preoccupazione rispetto al rialzo che poi per quasi tutto il mese di maggio ha tenuto impegnati i mercati azionari. Tante volte abbiamo parlato di un sano ritracciamento che avrebbe permesso ai mercati poi ed eventualmente come speriamo faranno di ripartire al rialzo, anche se non è detto che ciò accada. Il ritracciamento è arrivato e questa settimana finalmente si è chiuso il famoso gap del 29 aprile che essendo un gap all'interno della congestione, quella che ha tenuto impegnato il mercato nella prima parte di questo 2013, era chiaramente come da metodo proste più probabile dei altri o di gap fuori dalla congestione, dalle congestioni, era più probabile che si chiudesse e ciò è di nuovo avvenuto, ripeto non è obbligatorio ma sicuramente un gap in congestione è molto più probabile che si chiuda rispetto a quelli che non lo sono. Detto questo adesso la congestione stessa, prendete i massimi precedenti del 2013 come ho fatto io qui come riferimento sull'Eurostox, ma se volete poi anche sul DAX, ecco questa congestione va tenuta presente perché nello svilupparsi del Tubitop, Tubitop su Eurostox, U-Turn su DAX, eventualmente sul libro disponibile gratuitamente qui sul sito, barra laterale destra, libro di Brostè eccolo qui, ecco eventualmente i pattern andate a ripassare lì sopra, dicevo questi pattern hanno portato non solo a quel sano ritracciamento e la chiusura del gap del 29 aprile scorso sull'Eurostox che tanto aspettavamo, ma anche ad un rientro dell'Eurostox in congestione. Ora la tematica per la settimana entrante è proprio questa, lo Stox riprenderà la positività in atto precedentemente uscendo per prima cosa in modo abbastanza veloce da questa congestione o rimarrà all'interno della stessa? E' questo il primo tema che dobbiamo seguire e mi raccomando ragionate sempre per tematiche, chiedetevi sempre quali sono i temi del mercato, individuateli e seguiteli, nel seguirli senza fare previsioni avete modo di valutare in modo oggettivo quello che sta accadendo e definire poi le probabilità associate ai diversi scenari in base alle quali eventualmente poi si opererà. Detto questo allora la prima importante tematica per la settimana entrante è proprio capire se l'Eurostox rimarrà o meno all'interno di questa congestione, cioè se dovesse proseguire al ribasso, dovesse proseguire quindi con l'inversione, col pattern di inversione to be top che bene abbiamo segnalato ormai da tempo, è chiaro che l'area dei minimi del 2013, quindi l'area di 2005 è l'obiettivo naturale, di nuovo non è detto che la raggiunga, noi dobbiamo semplicemente capire che la tematica di un eventuale permanere all'interno della congestione è il raggiungimento dell'area dei minimi della stessa e vedere se e come lo farà è la cosa che dobbiamo fare senza fare previsioni. L'altro scenario è che invece l'Eurostox si riporti rapidamente al di sopra della congestione, quindi di questi massimi precedenti del 2013, riprenda la positività, cosa che da un lato tutti ovviamente speriamo, anche perché aspettiamo, è ovvio, una fine della crisi non solo in ambito finanziario ma anche e soprattutto a livello di economia reale, ecco che quindi se la positività dovesse riprendere l'Eurostox dovrebbe abbastanza rapidamente riuscire dai massimi del 2013, raggiungere i massimi precedenti, massimi del 2013 intendo quelli della congestione, poi raggiungere i massimi precedenti e quindi superarli per confermare appunto la positività eventuale che dovesse riprendere, non è detto che lo farà, ma è chiaro che dovrebbe in questo caso andare a rompere subito il rialzo e tornare al di sopra della congestione precedente. Se invece dovesse rimanere all'interno della stessa, l'area naturale è quella dei minimi della congestione stessa, quindi dovremmo vedere semplicemente se e come li raggiungerà ed eventualmente da qui ripartirà verso l'alto oppure li penetrerà al ribasso. Per quanto riguarda il DAX, il DAX vedete ha chiuso la settimana proprio poggiato sui massimi precedenti del 2013, aggiungerei non a caso, quindi abbiamo una divergenza molto precisa da seguire tra un Eurostox all'interno della congestione e un DAX invece appena appena appoggiato sopra la stessa. Qui interviene il discorso Bund, perché? Perché negli ultimi due giorni, in particolare ieri, ieri era giovedì di 2013, c'è stato un forte rialzo degli azionari dopo la mattinata in ribasso che ha portato, lo ripeto, alla chiusura del gap sull'Eurostox del 29 aprile. Ecco, la positività però che è seguita ha visto un Bund, lo vedete qua nella giornata del giorno 29, scusate, nel giorno 13 maggio, cioè di giovedì, un Bund assolutamente crescente, assolutamente positivo che non ha confermato il recupero avvenuto sugli azionari. La positività sul Bund è proseguita anche nella giornata di venerdì, giornata che si è appena conclusa, ed ecco qui il risultato. Nella giornata di venerdì abbiamo avuto un permanere in area massimi per una buona parte della mattinata e poi un ritracciamento non eccessivo, ma rispetto alla positività di ieri, il ritracciamento è sicuramente da tenere presente. Quindi attenzione alla divergenza che in questo momento e in qualche modo gli azionari stanno vivendo rispetto all'andamento del Bund. Divergenza molto importante e che dobbiamo per forza tenere presente pur tenendo il Bund in secondo piano. Questa divergenza insieme all'altra che vede il DAX ancora al di sopra del massimo per cento di 2013, lo stocks rientrato negli stessi, sono le tematiche più importanti sulle quali dobbiamo concentrare la nostra attenzione nelle prossime sedute. E attenzione che i pattern di inversione sono ancora e perfettamente in atto. Quando saranno negati? Sicuramente nel caso in cui lo stocks esca prima dai massimi precedenti di 2013, come detto più volte, ma soprattutto quando e se venissero superati i massimi del giorno 10, cioè i massimi raggiunti quando il pattern è andato a testare l'area del PV e poi è ripartito verso il basso. Li vedete qui anche sul DAX, i massimi del giorno 10 giugno, dai quali poi il DAX stesso è ripartito a ribasso, sono quelli che se superati con una chiusura di barra giornaliera di sopra degli stessi, vedrebbero la negazione del pattern che è ancora in atto al momento, Tubitop su Eurostoxx e U-Turn su DAX. Quindi abbiamo tante tematiche da seguire che sicuramente ci permetteranno di meglio giudicare quello che sta accadendo. Ovviamente come sempre sulla pagina Facebook ogni giorno abbiamo aggiornamenti in questi giorni anche molto approfonditi proprio alla luce di quello che sta avvenendo sui mercati che ci permettono poi di aggiornare i contenuti di questa videoanalisi, ma ricordate che le tematiche qui elencate nella videoanalisi molto spesso, lo sappiamo, durano per tutta la settimana, quindi il consiglio è comunque fare durante il weekend un lavoro e un piano di trading per tutta la settimana, magari partendo proprio dalle tematiche individuate qui nella videoanalisi, ma nel corso della settimana se le tematiche sono ancora valide vale sempre la pena fare un ripasso delle stesse magari riguardandosi la videoanalisi e capendo un pochino più a fondo, è ovvio ogni volta che si riguarda si possono cogliere elementi in più anche al crescere della propria preparazione. Ecco capendo un pochino più a fondo quello che man mano poi durante la settimana stessa si sta svolgendo.